La pandemia sta dando al mondo e a carissimo prezzo tante lezioni che non possiamo mandare sprecate. Ci dice che non siamo i padroni del pianeta, che possiamo sentirci al sicuro solo se intorno a noi tutte e tutti sono al sicuro. Siamo interdipendenti, il mondo è tutto connesso, i virus non conoscono le frontiere e allora potremo uscire da questo incubo solo se i vaccini saranno a disposizione della umanità intera, se il vaccino sarà universale e gratuito.